Ciao a tutte, vi comunichiamo il grande esito della discussione carbonara di sabato pomeriggio 26 maggio 2012. La cittadella di Feltre, la cittadella è il centro della condivisione. L'obiettivo è collegare le dolmeti patrimonio UNESCO con Venezia tramite la via Claudio Augusta al Tinali e organizzare come fine della presidenza della provincia di Belluno al dolmeti patrimonio UNESCO una grande festa che sarà la Marcia Erasmus, da pedavera a Feltre. Sono niente senza di me. Vai, ciulele, 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 la piantina. Vai.